La sostenibilità e la capacità di utilizzare le risorse della terra senza superare le sue capacità di fornircele, sia per quanto riguarda le risorse rinnovabili, sia per quanto riguarda le risorse non rinnovabili e la capacità di immettere nell'ambiente, nella biosfera, una quantità di rifiuti che la terra è in grado di metabolizzare. Per far questo dobbiamo ridurre il consumo delle risorse utilizzando delle tecnologie più avanzate di quelle attuali e cambiare i nostri stili di vita per far durare gli oggetti, per non buttarli via rapidamente come ci viene richiesto dalla società dei consumi. La decrescita è, credo, nella nostra visione, la decrescita come riduzione del consumo di merci che non hanno utilità e la capacità di produrre da sé le cose che servono senza doverle comprare, è l'unico modo per mantenere il consumo di risorse e le emissioni nei limiti di capacità di assorbimento e di produzione e di fornitura da parte della terra.